Ola amico, ma come suona Nico McBrain? Oggi analizzo lo stile di un vero caposcuola dell'heavy metal. Per chi non lo sapesse, Nico è il batterista degli Iron Maiden, musicista fantastico, forse addirittura sottostimato rispetto ad altri colleghi, ma ascoltando alcuni brani ti farò notare quanto invece si ha preparato tecnicamente, quanto gusto, quanta personalità abbia messo nelle canzoni day made. Insomma, c'è solo da imparare. Allora, la prima cosa che voglio analizzare di Nico è lo stile in generale, il modo in cui crea le parti per le canzoni. Lui ha un modo di suonare super musicale, molto brioso nell'accompagnamento, ce l'hai proprio qui in faccia che ti martella tutto il tempo. Da sempre usa questi grandi kit, ma li usa davvero, non è puffa per fare scena sul palco, ha proprio un approccio melodico che lo caratterizza nel modo di suonare. Per capire questo parto da un brano che amo molto, si chiama Wasted Years del 1986 e qui ho creato un mix dove la batteria è più alta rispetto agli altri strumenti e così ci focalizziamo meglio solo sull'esecuzione di Nico. Andiamo a sentirla. Intro! Gran pezzo questo qua, ragazzi. Cassa 2.4 Dopo sentirai un suono di batteria bombastico. Ora fa una cosa bella perché inverte la cassa 1.3, occhio! E senti che tiraccio? Bam! Meraviglioso! Allora, partiamo di qui. Partiamo proprio dall'analisi del groove. Come noterai, lasciamo stare l'intro, quando comincia il cantato, quando va nel groove della strofa, ha più o meno questo portamento qua. One, two... Non so se l'ho suonata proprio giusta, però quello che voglio dire è che il portamento del piatto, se hai notato, è piuttosto dritto. Suona, secondo me, forse addirittura con la punta, ma tutto molto lineare. Cioè non fa... questa cosa. E in più, con la cassa in quattro, crullante che anticipa ogni tanto, dà un senso di brio pazzesco. Poi quando arriva il fill, riesce a farci stare dentro questo fill, con sotto un cantato, no? Ma in maniera molto musicale. Che lui fa sui suoi tommini più piccolini. Cosa fa sostanzialmente? Fa un rullo a quattro, che usa spessissimo nel suo modo di suonare, che sarebbe tre note sui tommi, uno sulla cassa. Tipico! Andiamo avanti a sentire che mi sto gasando, dai! Ancora rullo a quattro. Senti il Charlie sempre molto... Bello! Parabarabarabarabarabarabah! Adesso arriva il ritornello. Il Charlie sempre molto avanti. Io sento anche delle ghost sotto che completano il groove. Ok, qua c'è questo giochino con la cassa. Anche in questo caso non sono sicuro di averti suonato proprio esattamente quello che ha fatto lui, ma è per farti capire il concetto. C'è il concetto dei doppi colpi di cassa che entrano. Nico ha un piede veramente veloce. Tra l'altro suona scalzo e non ha praticamente mai usato il doppio pedale. È sempre stato un amante del pedale singolo. Lo sentiremo dopo, non solo in questa tecnica dei colpi doppi, ma anche suonando più colpi ravvicinati, quanto è veloce, quanto è potente. Comunque di fatto usa la classica tecnica dei due colpi vicini. Secondo ritornello. Qua cambia il portamento. Passa dal Charleston al suo amato Ride, che usa tantissimo. Hai notato cosa fa con la cassa? Fa questa roba qui. E ancora, ritroviamo la stessa tecnica di prima, però in un contesto di groove, dove dà spinta, dà... Ah, ce l'hai proprio qua! Andiamo avanti a sentire, perché dopo fa la stessa cosa, più o meno la stessa figura ritmica, ma lo fa con la mano sinistra sul Charlie. Ascolta. Quindi, ricapitolando, qui abbiamo apprezzato il portamento, molto spinto, molto elettrico, sia sul Charlie, ma in particolare quando va sul Ride, dove in genere Nico ama molto accompagnare. Probabilmente direi che passa più tempo sul Ride che sul Charlie. Questo in molte canzoni degli Iron Maiden. Ora passo al secondo brano, che è Can I play with madness? Dove andiamo ad apprezzare un altro paio di aspetti molto caratteristici del modo di suonare di Nico. Via! Corretto? Can I play with madness? Bellissimo! Già questa idea di usare il campanaccio in quarti molto bella, ci sono delle ghost sotto, c'è questo pattern di cassa con i colpi doppi ravvicinati, interessante, ma ascolta di nuovo il feel, questo è un feel veramente che potremmo definire linear drumming, perché fa una figura... la figura... Lo sto studiando adesso per dire, però è interessante che c'è sotto anche il Charlie col pedale che va avanti. Ascolta la coordinazione che c'è. Sempre sedicesimi, molto sincopati, molto ballerini questi feel, no? Andiamo un po' avanti vicino al ritornello. Sempre linear con questa cassa, con i colpi doppi. Allora, ride, come prima, molto dritto, anzi c'è questa figura. Questi doppi colpi ravvicinati e alla fine sempre questi gruppi di Rulli A4 che usa moltissimo. Mi piace troppo quando va sul ride, Nico ha proprio questo ride qua, piantato così. Forse ce ne ha due fermissimi, pesanti, con questo suono, con questa punta. Adesso vorrei passare allo special dopo il secondo ritornello, perché c'è un groove molto interessante, ascolta come lo suona. Senti la goss? Super funk! E ride di nuovo, tipi-tati! E infine vorrei farti ascoltare una traccia live di Fear of the Dark, un classicone dei Maiden, il cui groove è proprio un marchio di fabbrica di Nico e della band in generale, credo che sia il pezzo giusto per dare la definizione di tiro, come si dice in gergo batteristico. Fai attenzione a come scorre tutto bene, al flow che ha, ai feel, all'uso degli accenti sincopati, la tecnica della cassa, praticamente mettiamo insieme tutti gli elementi che abbiamo visto prima e poi valuta tu stesso se ti piace quello che senti oppure no. Questa live è? Che tiro! Rulli a quattro! Senti che bello il groove della strofa! Con sotto le ghost! Vedi com'è fluido, come va, come gira bene! Ritornello! Tanto papà, tre colpi di cassa vicini! Questa è proprio il classico groove alla made! Ecco questo! Non so di che anno sia questo live, qua può darsi che lo faccia con un piede singolo, risentiamolo ancora perché non va mica piano eh! Pi che altro suonarlo con questa intensità! Andiamo a sentire lo special che è molto bellino! il verso il tempo... Fil da timbale! Prada-trada-trada-trada-trada-trada-trada-trada! Questo è un altro classico. Questo è un gruppo di tre note. Bacchetta al contrario, su un rullante. Ragazzi, questo significa per me avere la cazzimma, cosa voglio dire? Io sento un batterista che è sicuro dietro lo strumento, magari fa cose apparentemente non troppo complicate, o almeno rispetto allo standard tecnico di oggi sicuramente, ma metti insieme tutto quanto e qua veramente senti la qualità. D'accordo, Nico è della vecchia scuola, non ha uno stile moderno per così dire, però se vuoi suonare qualcosa di pesante ci devi passare in mezzo, soprattutto perché stiamo parlando degli Iron Maiden, che sono la più importante heavy metal band di sempre. E quindi, se per fare pop ascoltiamo i Beatles, se per fare funk ascoltiamo James Brown, per fare heavy metal dobbiamo ascoltare i Maiden e non ci sono storie. Questo è il mio omaggio a Nico, che è stato anche il mio primissimo amore, probabilmente senza quella VHS di Live After Death, oggi neanche suonerei la batteria, passavo le ore in salotta a guardare quel concerto e sognavo, mi innamoravo della batteria. Fammi sapere se ti è piaciuto questo video, ho fatto diverse guide all'ascolto, se te le sei perse alla fine di questo video, troverai la playlist da cliccare con tutte quante le mie analisi, se ancora non sei dei nostri, iscriviti al canale e se stai cercando dei corsi online di batteria, dai un occhio alla mia scuola online dove ci sono diversi argomenti e corsi dedicati ai batteristi, trovi tutto su corsi.suonarelabatteria.it. Grazie se sei rimasto fino adesso, dai è Nico e viva i Maiden Forever. Ciao!